Un vasto incendio ha distrutto nel pomeriggio di oggi un caseificio fattoria incontrata a San Martinello nei pressi di Atri, distrutte diverse attrezzature agricole. Sul posto sono prontamente intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, del distaccamento di Roseto e del comando provinciale di Teramo, oltre ad una squadra della protezione civile di Silvi. Dal nostro punto di avvistamento qui ad Atri, con le della giustizia, alle nostre spalle abbiamo avvistato questo fumo, sospetto, sotto ordine della nostra sala operativa, ci siamo portati sul posto dove abbiamo potuto realizzare che effettivamente purtroppo era un incendio. A causa dell'incendio diverse attrezzature agricole sono andate distrutte, si contano danni per diverse migliaia di euro. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle ore 13, in un paiaio ubicato nei pressi della stalla dell'azienda Caseari e Calanchi di Atri. Per rifornirsi di acqua i vigili del fuoco hanno utilizzato gli idranti dell'ospedale. Gli uomini della protezione civile hanno tratto in salvo circa 80 capi di bestiame ricoverati in una stalla situata nei pressi del rogo. Ovviamente è un incendio di interfaccia perché ci sono abitazioni vicine, adiacente c'è anche una stalla dove abbiamo circa un'ottantina di mucche. Ci siamo subito preoccupati di tenere sotto controllo sia la stalla del bestiame che adiacente alla stalla c'è un serbatoio di nafta, di diesel. Quindi è stato raffreddato, gli animali sono attualmente fuori pericolo, la casa è fuori pericolo. Il pagliaio purtroppo deve continuare a bruciare perché sotto la paglia ha creato un covo vero e proprio dove non ci si arriva in nessun modo a spegnerlo. A meno che non si aspetta che si bruci tutto e con il continuo raffreddamento dell'acqua speriamo di riuscire in serata, a massimo domani mattina, a spegnere definitivamente l'incendio.